www.eccellenzeacamporeale.it, una piattaforma multicanale che supporta le eccellenze a campo reale. Non accontentarti del mediocre, se hai l'eccellenza a portata di click. Ah, ciao ragazzi, volete sapere perché sono qua, ma soprattutto dove sono? Sono a campo reale, perché mi è arrivata una segnalazione di squisita eccellenza. Ebbene sì, una squisita eccellenza, se c'è una squisita eccellenza io non potevo mancare, soprattutto per assaggiarla, la qualità realmente di quello che mi hanno detto. E io adesso sono qui, presso la pizzeria Gran Vulcano, per mangiarmi la famosissima shavata, che io non conoscevo. Però da stasera vi prometto che vi porterò con me passo passo a conoscere questa eccellenza di campo reale, la shavata pizzeria Gran Vulcano. Io vado, ci rivediamo tra un attimo. La shavata, la gustosa tipicità di campo reale, dal sapore deciso. Se siete amanti dei sapori forti e decisi, dello sfincione palermitano, ma preferite la pizza perché più sottile e croccante, sappiate, o magari già lo sapete, che esiste una golosa via di mezzo, in grado di far finire in pareggio l'eterno derby Palermo-Napoli, tra questi due must dai lievitati. Si tratta della shavata, tipicità camporealese in grado di mettere d'accordo tutti i palati. Perché su una base sottile, dal bordo soffice e dalla crosta croccante, vengono posti ingredienti gustosi, come la cipolla, il pomodoro, l'origano, l'acciuga e il caciocavallo, che donano carattere e personalità a questa variante della regina di Napoli, dal gusto inconfondibile. Per questo motivo, quando vi troverete a Camporreale, non potete negarvi il piacere di visitare la pizzeria Gran Vulcano, per ordinare la shavata, tipicità locale dall'aspetto molto appetitoso. In apparenza è simile ad una pizza, che vi fa l'occhiolino fin dalla foto sul menù. Ma sappiate ordunque che non si tratta della solita pizza. Come tutte le tipicità locali, ne esistono tante versioni, quante le persone che sostengono di fare quella originale. L'antica ricetta appartiene però alla tradizione camporealese e rappresenta una golosa alternativa al solito pane che preparavano le donne, nell'attesa che i mariti tornassero dai campi. Dallo stesso impasto utilizzato per preparare il pan, infatti, se ne ricavava un altro più morbido, ottenuto semplicemente aggiungendo solo un po' di acqua in più. Nonostante gli ingredienti, che costituiscono il ricco condimento, siano apparentemente poveri, come la cipolla, il pangrattato, il formaggio, le acciughe, l'olio extravergine di oliva, la sciavata della pizzeria Gran Vulcano viene condita con materie prime di assoluta qualità e genuinità. Ed è proprio questo, l'elemento fondamentale, che fa di questa sciavata una specialità, una eccellenza unica, dal sapore intenso ed appagante, capace di rendere prezioso ogni singolo morso. Se vi trovate nei paraggi, dunque, e volete provare la sciavata, potete approfittare della dispensa virtuale del portalino www.eccellenzeacamporeale.it, le commerce dei prodotti di eccellenza tipici siciliani, di qualità, da ordinare online e ricevere comodamente a casa. Per sapere di più, però, sulla sciavata e sulla pizzeria Gran Vulcano, ci vediamo domenica prossima, sempre alle 10.30, su AP Web Radio Social TV, la radio che si guarda. La libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto vale solo quando comincia a mancare. Sono Sicula e me ne vanto, vanto la sua bellezza, vanto la mia terra, parlo di tramonti che ti tolgono il fiato e ti attraversano la pelle e poi l'anima. Sicilia, che mi regali incontri con terra e colori a me sconosciuti, fatta di fuoco e poi di mare, vento e sole e tutte le colore, sull'italiana te mi sento viva, ubarariso io chiamassi, sogno siciliano e me ne vanto, terra d'amore, fatta italiana ancora una volta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.